oggi recensisco l'album del 1970 dei beatles let it be su richiesta fatta su patreon da joseph sald nel mentre metti un like al video iscriviti al mio canale e se vuoi farmi recensire un disco a tua scelta abbonati a patreon in tier 3 allora nonostante venga pubblicato nel 1970 e finisca per essere l'ultimo album di fatto dei beatles il disco però viene registrato prima delle sessions di abby road che invece esce nel 1969 il 1969 possiamo definirlo tutto tranne che un buon anno per la band perché brian epsin lo storico manager è morto da qualche anno lasciando ipso facto la gestione del gruppo almeno quella artistica paul mccartney che in questa fase peraltro interpreta del ruolo con grande determinazione grande serietà cercando di timonare la band fuori dalle acque agitate il problema è che a sostituire epsin hanno assunto uno squalo ovvero il grande manager allen klein voluto da tutti tranne che da paul e su questo poi ci torneremo la struttura imprenditoriale che hanno creato chiamata apple ha un rapporto costi benefici che è troppo sbilanciato verso i primi e pochissimo verso i secondi quindi bisogna farla fatturare per scrivere e per registrare delle canzoni o un album di art rock come i lavori precedenti l'ultimo disco prima di questo è il white album non non solo richiede una grande coesione di cui la band non gode in questa fase ma anche di un quantomeno un bacino di canzoni già pronte o da completare in studio il contributo diciamo di ciascuno dei beatles che stavolta però manca quindi la coperta è corta in generale poi ci sono troppe persone che sono coinvolte nel processo creativo specialmente persone che avrebbero dovuto pensare ad altro non alla musica diciamo agli affari più che altro della apple che in questa fase sta scritturando anche degli altri artisti a questo si sommano anche le cause legali nei confronti dei beatles che portano a una riflessione sul fatto che possa essere ancora una buona idea continuare come band perché perché sciogliersi porterebbe al decadimento dei procedimenti quindi ci sarebbe una convenienza per tutti non ci dimentichiamo nemmeno che stiamo parlando di quattro elementi molto creativi ciascuno con la sua linea artistica col suo carattere c'è ringo che vorrebbe fare l'attore c'è george che è richiesto ad essere a sinistra tutti vogliono collaborare con lui soprattutto dei grandissimi artisti musicisti molto importanti anche se in realtà il crucio di george harrison vero è quella autoriale che viene spesso e volentieri ridimensionato in termini di compartecipazione alla scrittura dagli altri beatles soprattutto ovviamente da john e paul fondamentalmente gli dicono ascolta se dovessimo registrare ogni pezzo che propone ciascuno di noi noi da qua dallo studio non usciremmo praticamente mai più a lui questo non piace molto john dal canto suo è molto inclina a voler lasciare l'inghilterra perché sono sempre più forti le pressioni soprattutto della stampa anche dell'opinione pubblica perché onestamente lascia una moglie britannica per sposarne un'altra giapponese questa cosa pure piace poco la stampa gli aveva riservato un trattamento d'odio insomma che non poteva sicuramente lasciarlo indifferente paul invece era l'unico che si era opposto all'assunzione di allen klein come manager col senno di poi tutti gli daranno ragione ma in seguito addirittura lui che cosa fa siccome allen incline vuole cercare di acquisire tutto il catalogo le royalties dei beatles lui paul per salvare il catalogo e per salvare le royalties addirittura arriva a fare causa ai beatles a portarli in tribunale ed è uno stratagemma uno stratagemma ovviamente da extrema razio purtroppo non solo non funziona ma ufficialmente questo gesto scioglie il gruppo per sempre quindi diciamo che il trucchetto l'inganno questo cavallo di troia di allen klein per fregare ai beatles le royalties sul catalogo pone fine alla storia della più importante benda della storia a questo aggiungiamoci anche il fattore droghe ed alcol non indifferente che sicuramente non aiutano non favoriscono la lucidità dei quattro di fatto comunque restano un ottimo team di lavoro e come decision makers l'idea è quella di fare un film tv da girare in diretta nazionale di fronte al pubblico con in aggiunta anche uno speciale televisivo sulle prove e sulle registrazioni in studio musicalmente il disco che ne sarebbe stato ricavato cerca in un senso di riportare i beatles alle loro origini sonore quindi un rock semplice appunto vicino a quello delle loro origini lontano da dal white album lontano da sergent pepper che peraltro nel caso del white album li ha visti penare tantissimo in sede realizzativa del disco l'idea in sé non sarebbe neanche male ma appena iniziano a lavorarci su tutto si complita tutto quanto inizia a crollare questo impianto si sfalda invece che gli abirod studios li portano in un capannone praticamente in un grande in una grande struttura twickenham una struttura ovviamente da adibire a studio deve servire sia per le telecamere per filmarli ma anche per il pubblico perché deve esserci il pubblico e ovviamente ci devono stare loro che devono anche in questa situazione così dispersiva trovare un'atmosfera buona per creare amalgama chiaramente con tutte le difficoltà non solo acustiche ma anche ambientali appunto del caso in tutto questo potrebbe aiutare george martin ma lui in questo momento gioca molto defilato diciamo che gioca lontano dalla porta in questo disco chiamano a gestire le registrazioni a mixare i pezzi glen jones che però non ha chiaro il suo ruolo che faccio registro mixo produco non lo sa il materiale che ciascuno mette sul tavolo non basta e richiederebbe un lavoro imponente invece hanno un calendario a brevissima scadenza veramente fitto quindi devono correre contro il tempo c'è da scrivere altre canzoni c'è da arrangiarle bisogna assimilarle bisogna registrarle tra l'altro vi voglio ricordare permettere che ai tempi si registrava tutto live quindi la band eseguiva la canzone in maniera definitiva bisognava veramente possederla la canzone paul prova a fare il direttore dei lavori anche vedendo i filmati dell'epoca sembra quello che ci tiene effettivamente di più e sembra quello che dirige ovviamente a spalleggiarlo c'è john ringo sta zitto ed esegue non crea problemi e poi c'è george che però si sente troppo sacrificato ed è sarà la prima vittima di questa struttura estremamente caotica complessa dopo pochi giorni decide di abbandonare sessions e gruppo se ne va restano in tre e iniziano a cercare delle soluzioni dei rimpiazzi dei piani b ora pur non essendo il rimpiazzo naturale di george erison visto che è un pianista e non un chitarrista i beatles convocano un musicista amico si stimano a vicenda ed è di passaggio a londra in quei giorni billy preston un pianista straordinario bravissimo certo che indubbiamente ha delle altre ispirazioni musicali altre origini musicali viene da un altro mondo rispetto ai beatles e anche c'è da dire ha proprio un altro talento nelle mani rispetto agli altri tre però questa di tutte le varie mosse questa si rimane una mossa felice infatti la presenza di billy preston immette adrenalina linfa vitale nel gruppo che addirittura fa preparare le carte per scritturarlo come membro permanente in più il ruolo di billy preston è quello di fare un po da beta tester cioè lui prova assapora l'effetto delle canzoni su cui stanno lavorando i beatles e a giudicare dall'entusiasmo di billy preston questo questo suo trasporto dalla convinzione ai tre beatles di cui mancavano avevano bisogno veramente di questo tipo di spinta di drive da lì in poi la strada inizia ad essere in discesa almeno da un punto di vista compositivo certo ci sono ancora un paio di rognette da risolvere c'è george col quale c'è un lungo chiarimento in una riunione fiume dove gli danno tutte le garanzie compositive di cui ha bisogno anche per il ruolo no e la seconda cosa la seconda rogna è andarsene quanto prima da twickenham perché più che una culla della musica un cimitero e tornare a casa non agli heavy road studios ma ai loro studios ovvero gli studios che avevano costruito anzi che stavano a dibendo non erano ancora pronti all'epoca quindi si sbrigano a sistemare tutto anche questo comporta una perdita di giorni nel loro calendario però si ritrovano gli studi pronti dentro casa loro tutte le idee dei singoli vengono finalmente finalizzate viene ristabilita l'armonia le registrazioni vengono concluse per tempo lo show televisivo cosa ne facciamo si passa da incredibili destinazioni esotiche dalla più lontana alla più vicina e anche forse almeno affascinante però anche questa mossa si rivelerà incredibilmente vincente anzi direi iconografica ovvero il tetto lo stesso edificio quello della apple dove stanno registrando c'è effettivamente però ancora un problema che riguarda la figura del produttore john che ci ha lavorato in instant karma che esce anch'essa nel 1970 vuole a tutti i costi phil spectro vuole il fantomatico wall of sound gli altri sono abbastanza convinti tranne paul che invece la pensa in maniera diversa devo dire che paul quasi tutte le sue chiamate sono le chiamate giuste in questo disco paul mccarty non è che non vuole phil spectro proprio lo detesta detesta proprio questo suo approccio e finirà per odiare ancora di più il prodotto finale una volta che phil spectro avrà mixato il tutto dirà che il disco è barocco è ipersaturo è pomposo è proprio lontano dall'essenza dei beatles stessi e si prenderà la sua rivincita si vendicherà nel 2003 quando poi pubblicherà la versione naked del disco togliendo phil spectro all'atb quindi niente archi niente barocco e già che c'è toglie pure due filler come maggie may e dick it ma parliamo infatti delle tracce del disco allora l'album per essere un disco dalla gestazione così complicata diciamo quasi tragica è pieno di apici straordinari di lennon di mccartney di harrison e a parte veramente quei due tre filler anche piuttosto esplicitamente dichiarati gode di una solidità e di un fascino e incomiabili a parte allora a parte le ovvie across the universe the long and winding road lady b ne parliamo tra poco in questo disco sono le seconde linee a dare il nervo all'album l'opening track two of us con questo palleggio acustico di chitarre acustiche di voci tra john e paul che nonostante tutto è un indice di un'intesa che difficilmente è compromettibile dig a pony che per me oltre ad avere una linea melodica pazzesca gioca gioca sul nonsense lennon scrive questa canzone inventandosi le parole fa una roba che vede fare a dylan e che a lui piace particolarmente e quindi lui non se ne cura il testo lo butta giù tutto così tutto di un fiato come viene viene quello che significa significa tanto sa che nel caso dei beatles qualcuno sarà lì sempre pronto a cercare una giustificazione anche di fronte alle cose più incompressibili il testo è praticamente un'improvvisazione di lennon andiamo a george elison i me mine valser lui lo definì un heavy waltzer è un valser sobrio come arrangiamento maestoso da un punto di vista compositivo e c'è questo plot twist ritmico e melodico in mezzo alla canzone nel ritornello che diventa quasi un pezzo psych rock potrebbe essere un pezzo da white album pezzo straordinario peraltro incredibilmente sottovalutato e il riso deriso durante le fasi di prova twickenham sia da paul che john i've got a feeling altra grandissima seconda linea di questo disco l'unica canzone estratta da live sul tetto come esecuzione che combina due canzoni incomplete una di john e una di di paul quella di john si chiama everybody had a hard year quella di paul si chiama i've got a feeling esattamente come il titolo definitivo anche questa cosa qui di mettere insieme le canzoni era una tecnica piuttosto comune per john e paul per fargli quagliare le canzoni quando non gli venivano un esempio a day in the life poi ovviamente ci sono i monumenti di questo disco across the universe capolavoro eterno di john lennon una delle canzoni più coverate della storia sono è monumentale let it be che a differenza quello che uno pensi non è una canzone sacra anzi mother mary non è la madre di gesù ma è la madre di paul mccartney che battute su gesù sulla fama rispetto a gesù a parte che paul perde quando ha soltanto 14 anni e si chiama mary e anche qui è un sogno di paul mccartney sogna sua madre piuttosto fortunato con i sogni anche yesterday è frutto di un sogno di paul mccartney e questo pezzo che nasce al pianoforte che già paul mccartney sa suonare molto bene viene abbellito dallo scambio pianistico un acustico e un elettrico proprio tra paul e billy preston che il pianoforte elettrico fa delle cose meravigliose the long and winding road uno degli oggetti della disputa della contesa con phil spectro poi alla fine mccartney gli archi se li tiene perché sono parte integrante e secondo me anche a ragione perché gli archi sono veramente un una parte fondamentale di questa composizione una ballata nata semplice sicuramente nella versione di lady b è molto imbellettata da phil spectro a tratti stucchevole ok tanto stucchevole che paul mccartney si rifiuta di assistere al mix lui non ci vuole neanche essere mentre phil spectro ci mette mano che lo faccia lui lo scempio salvo poi appunto vendicarsi ma quando si vendica si vendicherà tenendo comunque la parte di archi che sono secondo me memorabili sono parte integrante della bellezza melodica di questo capolavoro certo ci sono anche un paio di pezzi buoni che non ti fanno strappare i capelli one after nine oh nine for you blue canzoni oneste niente di che e poi quei due filler che giustamente mccartney in seguito rimuoverà ovvero maggie may e dig it l'unica curiosità maggie may è una canzone tradizionale che racconta le gesta di una prostituta di liverpool maggie è un termine slang britannico di anzi proprio di liverpool per chiamare una prostituta e non solo è anche la prima canzone a non essere scritto da nessun membro dei beatles dai tempi di help quindi si torna alla cover dopo diversi dischi non diversi anni maggie may viene inserita non nel disco ma in quel punto dei disco dopo let it be a sfregio da john lennon che odiava let it be definendola una canzone da chiesa infatti c'è l'introduzione originale che poi è stato messa nel disco dove dice adesso a cantarci questa canzone suoneranno per noi e dice il nome di una un nome fittizio di un qualcosa che potrebbe essere appunto un gruppo da chiesa e quindi cosa fa la sporca di profano la sporca con la prostituta quindi aggiunge il profano al sacro che poi è sacro percepito perché in realtà è una canzone sulla madre però evidentemente anche john lennon è vittima dell'equivoco insomma per essere un disco nato dalla difficoltà lady b è un disco straordinariamente riuscito con dei picchi altissimi e una solidità di fondo complessiva molto alta cioè qui ci qui ci trovi dei beatles sicuramente meno pretestuosi meno ricercati però incredibilmente maturi è un disco fatto da mestieranti con un livello professionale delle palle che fumano ma un livello professionale talmente elevato che anche se lo hanno fatto in queste condizioni solo usando il mestiere questo imbarazzerebbe chiunque altro questo è un disco da 8.8 per me degnamente seduto tra le cose migliori del gruppo non tra i più grandi dischi ma tra le cose migliori del gruppo sicuramente vi dico e vi consiglio anche di bingiarvi se mi permette del neologismo le puntate del film documentario di peter jackson dove insomma si va veramente a fondo e secondo me andarsi a vedere quel documentario è una roba bella non soltanto per chi ama i beatles è proprio bello se amate la musica e se vi piacciono i racconti e le storie metti un like iscriviti al canale abbonati su patreon per richiedere la tua recensione